Io faccio una breve parentesi sull'area diciamo di cui mi occupo da da un po' di anni. Io mi occupo di comportamentale, quindi tutto quello che appunto il mondo delle soft skills sia come formazione che come coaching. Quindi soprattutto in questo momento l'idea è quella di ripartire da noi, da come stiamo, da tirare fuori anche qualcosa in più per riuscire veramente a ricostruire. Uso è una metafora che ha usato con me una mia mentore tempo fa, che mi è piaciuta moltissimo. Avete presente l'arco, quando devi tirare una freccia da un arco, no? Cosa fai? Prendi la freccia, la metti nell'arco, ma il primo gesto che fai non è quello di lanciare in avanti la freccia, bensì quello di tirare indietro. Se non fai correttamente quel gesto per tirare indietro, per caricare il colpo, la freccia non parte, ma soprattutto non arriva all'obiettivo. Allora, a me piace pensare che questo periodo che abbiamo passato sia stato il momento in cui abbiamo tirato indietro la freccia per caricare il colpo. Quindi adesso il momento è di scoccare la freccia e vediamo come farlo, su cosa lavorare. Ho inserito qua un paio di frasi, a me piace ogni tanto citare qualche frase, qualche aforisma. Quando la freschezza del mattino è stata sostituita dalla stanchezza del mezzogiorno, quando i muscoli delle gambe sentono la stanchezza, la scalata sembra infinita e improvvisamente nulla va come avresti desiderato, è allora che non devi esitare. Questo perché? Perché questo periodo che ci aspetta, so che può sembrare brutto dirlo, ma sarà una selezione darwiniana, cioè nel bene e nel male, sarà una selezione per forza di cose. Quindi come tutte le crisi riesce a recuperare chi effettivamente ha lavorato su di sé e si ripresenta in questo nuovo mondo. Giulia ieri mi diceva che le è piaciuto molto che abbia usato questa etichetta New World, quindi questo nuovo mondo. Sicuramente sarà un'occasione per valorizzare chi effettivamente ha investito su di sé, sulla sua attività, sulla sua professionalità in questo momento. Non cercare di cambiare la tua vita, cambia il tuo atteggiamento verso la vita. Nella mente c'è abbastanza spazio per trovare nuove soluzioni. La felicità è dentro di noi. Se guardiamo nella direzione sbagliata, non possiamo vederla. Questo è un tema enorme e nella formazione comportamentale e nel coaching lo tocchiamo sempre, perché è la condizione sine qua non, cioè deve partire da noi. Io faccio sempre l'esempio di Alex Zanardi, della Bebevio, cioè indipendentemente da quello che ti succede all'esterno, la grande differenza la fa come tu reagisci, come tu vivi le cose, i significati che attribuisci, come decidi di reagire. E io devo dire che anche per mia esperienza personale i momenti della vita in cui veramente mi sono ritrovata più a terra, proprio che dici ma ho toccato il fondo? No, c'è ancora un pezzettino ancora più in basso. Ecco, quelli sono stati veramente i momenti in cui ho fatto il salto quantico. Quindi questo sicuramente è stato un momento di questo tipo, però adesso è ora di fare il nostro salto quantico. Quindi quanti ci pompo a quelli che saranno i temi che tocchiamo oggi, quindi oggi facciamo un aperitivo, diciamo, però saranno sicuramente sviscerati in maniera molto più dettagliata nell'Out of the Class che sarà composto da questi cinque capitoli. Oggi li vediamo appunto, tocchiamo questi cinque elementi, ma poi appunto vengono sviluppati in maniera più dettagliata nel percorso formativo. Quindi sicuramente la resilienza, che è un tema che mai come adesso è utile. La gestione dell'incertezza e la gestione della complessità, che sono due variabili che in questo momento direi che sono una costante. Sbagliare come un vincente, quindi come gestiamo noi gli errori e il timore anche di sbagliare. Io e i miei pensieri, come gestire i nostri comportamenti autolimitanti, perché sappiamo che ogni tanto noi siamo bravissimi ad incasinarci la vita, possiamo essere i nostri migliori alleati come i nostri peggiori nemici. Auto-efficacia e self-balance, gestire la vita privata e lavorativa con lo smart working, perché penso che ognuno di noi, lavorando da casa in queste settimane, abbia dovuto un po' trovare il suo equilibrio tra l'attività lavorativa e la famiglia, lo spazio privato. Insomma, ieri parlavo con una mia cliente che mi diceva tu devi provare a lavorare tutti i giorni con una bambina di tre anni che vuole costantemente le tue attenzioni. E quindi, insomma, diciamo che è stato un periodo particolarmente importante anche per questo.